Da quasi un anno l'azienda non paga gli stipendi, sciopero dei lavoratori della Tecnogest in presidio di fronte al circolo sotto ufficiali della Marina Militare di Ancona. La Tecnogest è un'azienda che ha in appalto i servizi di pulizia e ristorazione all'interno dei circoli della Marina Militare di Ancona. Purtroppo è da quasi un anno che l'azienda non paga gli stipendi e da agosto di quest'estate le persone sono con degli stipendi arretrati. Nel mese di agosto la situazione è degenerata. L'arretrato è arrivato ad almeno due mensilità più la quattordicesima. Nel mese di novembre, solo a seguito della proclamazione di uno stato di agitazione da parte dei lavoratori e dei sindacati di categoria, Tecnogest ha proceduto al pagamento di alcune retribuzioni ma da novembre 2016 il pagamento degli stipendi è bloccato. Ad oggi i lavoratori devono ancora percepire le mensilità di ottobre, novembre e tredicesima e ormai anche la mensilità di dicembre. Noi oggi chiediamo innanzitutto la liquidazione degli stipendi arretrati perché purtroppo abbiamo ricevuto solo un acconto del mese di ottobre, quindi potete immaginare di quanto ammonta l'arretrato. E chiediamo se possibile puntualità e esigiamo ovviamente un rapporto di lavoro che sia assolutamente dignitoso. Se questo non sarà ovviamente proseguiremo nella lotta fino ad arrivare perché no a un nuovo appalto. Se la situazione non dovesse cambiare, i lavoratori sono pronti a scioperare nuovamente l'11 febbraio.